Ciao a tutti ragazzi, oggi con il mio nuovissimo video dove vi risponderò ad alcune domande che mi avete lasciato giù sotto nei commenti del video precedente di cui sono troppo felice che ha riscosso così tanto successo infatti vi volevo ringraziare e poi volevo farvi un piccolo allenamento per allenare spalle e braccia per poi andare ovviamente al palo quindi iniziamo subito con le risposte guardate che mi avete fatto domande molto simili vi rispondo subito alla prima quindi, allora, mi avete chiesto se mi vergogno del mio fisico? mi vergogno del mio fisico? non credo proprio anzi, ne vado molto fiera credo che una ragazza può essere sia muscolosa che femminile allo stesso tempo quindi... e poi mi avete chiesto se prendo integratori allora io non prendo integratori ma seguo solamente una dieta equilibrata e ovviamente mi alleno tutti i giorni in più faccio il palo che è la parte fondamentale quindi iniziamo subito con il mio video iniziamo subito Grazie a tutti.